Tra le pagine, il segnalibro, dal nastrino di seta colorato al design e il titolo della mostra e il tema delle conferenze in programma per il mese di maggio alla Biblioteca della Regione di Via Confienza 14 a Torino. La mostra, aperta fino al 1 giugno, propone una selezione di segnalibri provenienti dalla collezione di Daniela Bongiovanni, che conta oltre 1500 pezzi. Oggetti semplici ma non di rado anche preziosi, ricamati, rilegati con fili d'argento o di seta. Si spazia da quelli inglesi di fine ottocento ai contemporanei. Un viaggio affascinante attraverso il costumo e la moda e i consigli per gli acquisti lungo più di un secolo.